Un fine settimana che vedrà sempre buona parte dell'Europa centro-occidentale governata dall'anticiclone africano con i massimi proprio tra Spagna e Francia, piovose perturbazioni quindi a latitudini più settentrionali sulla Scandinavia, anche se infiltrazioni di aria un po' più fresche e dirette verso i Balcani, favoriranno qualche spunto temporalesco sulla Drossale Appeninica centro-medionale in locale sconfinamento, ad alcuni settori delle coste del basso tirreno si tratterà comunque di fenomeni veramente isolati ed occasionali, buono invece sulle altre zone del centro-nord in una giornata tipicamente estiva ma andiamo a vedere le temperature perché appunto le correnti un po' più fresche tra virgolette da nord-est favoriranno un lieve calo termico sulle Venezie, le coste adriatiche quindi il caldo piano piano un po' a retra sarà di fatti un weekend sempre di piena estate ma con clima meno affoso anche al nord-ovest anche se le temperature anche qui così come sulle zone interne tirreniche raggiungeranno sempre i 30-32 gradi nel corso del pomeriggio. Con questo per il meteo è tutto, gli aggiornamenti come sempre scaricando l'app di trebimeteo.com